Movida è non solo per noi di Stressi Notte, questa sera siamo al Dolce Vita per presentare l'ultima opera, l'ultimo libro del carissimo amico avvocato Lello Ciccone, le sorte del contratto di lavoro nelle procedure concorsuali. Questa sera a questa presentazione sono accorse tantissime persone, soprattutto tanti personaggi di spicco del Salernitano. Grazie a tutti Grazie a tutti Ed eccoci in compagnia del magistrato Nicola Graziano, benvenuto alle telecamere di Stressi Notte. Buonasera a tutti, sono molto felice di stare con voi. Siamo molto felici questa sera di poter essere qui per parlare per l'appunto di questo libro molto strutturato e molto importante, quello dell'avvocato Ciccone, non potevamo assolutamente mancare. È un libro importante, è un libro che stimola molto il riflessore anche per chi come me è un magistrato che si occupa di fallimentare, quindi i temi trattati dagli autori, in particolare da Lello Ciccone, che oggi ci ho sperato tutti, sono veramente importanti e fanno riflettere molto. È un'occasione anche per me di studio, di riflessione e terrò conto nell'attività di questi suggerimenti importanti che sono frutto di un'esperienza vissuta, viva e molto concreta. Grazie. 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 tutti quanti a essere qui presenti, argomento molto molto importante quello trattato questa sera e quello che naturalmente tratta il libro del professor Ciccone. Sì è importante l'argomento ma più che altro è importante l'iniziativa perché poi la capacità di raccogliere in un momento come questo dove il disinteresse e la preoccupazione prevale su tutto intorno ad una tematica come quella fallimentare delle imprese qualifica Lello per quello che è un grosso catalizzatore di attenzione con una grande capacità di promuovere idee ed iniziative. Il libro è piacevole, è interessante, è ben fatto, è sicuramente un manualetto utile per quanti si avvicinano a questa disciplina da diverse prospettive e quindi faccio i migliori auguri perché possano produrne anche altri visto che è una disciplina in continuo aggiornamento. Anche da un punto di vista politico sicuramente può essere questo un preludio, può essere una marcia in più secondo lei? Sicuramente ognuno di noi come elettore oggi ha capito una cosa, il politico non può essere un ignorante, il politico deve essere uno che ha categorie concettuali superiori, il politico deve essere uno che può darci fiducia e nel quale noi possiamo riporre le nostre aspettative quindi la volontà di qualificarsi anche attraverso pubblicazioni è incommiabile. Grazie! 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 Ciccone, è stato un gran lavorone ma ne valsa veramente la pena potremmo dire. Sì, ne valsa la pena anche perché come già ho detto è un tema molto importante la tutela dei lavoratori nelle procedure concursuali, quindi siccome non si trovano molti libri, molta ricerca nella letteratura moderna allora ho deciso di puntare su questo tema che sicuramente è molto importante. E poi potremmo dire che sicuramente è anche una bella esperienza, un modo per arricchirsi e riuscire a mettersi sempre la prova in cose nuove. Sì, questo sicuramente, proprio perché è un tema nuovo, bisogna lavorare ancora di più per cercare di snocciolare quante più questioni possibili e risolvere più problemati, quindi siamo molto soddisfatti. Presidente Iervolino, un vero piacere essere in sua compagnia questa sera e soprattutto un vero piacere poter presentare finalmente il libro del nostro avvocato Ciccone. Il libro di Lello vuole sensibilizzare, logicamente, una platea molto vasta al lavoro. I dati Istat ci indicano che comunque l'innalzamento e l'occupazione è un dato positivo, ma non investe i giovani e quindi il messaggio forte deve arrivare innanzitutto a loro, un impegno nella formazione, nelle specializzazioni, un pizzico di coraggio nell'autoimpiego, soprattutto nelle start-up, ci sono delle praterie di opportunità, soprattutto nella rivoluzione digitale. Quindi un messaggio forte, un messaggio sociale. Quando la politica diventa un po' ancillare all'economia c'è necessità che gli uomini, in questo caso, degli intellettuali, anche attraverso lo sprone di un libro possano poi sensibilizzare una platea così vasta come questa sera e mandare un messaggio chiaro e forte. È proprio vero, una platea molto vasta, potremmo dire foglie oceaniche, perché incredibile. La risposta è grande. Sì, è grande perché il tema è importante, perché la condizione con cui se ne è discusso stasera, un modo informale, contaminativo, molto diretto, sicuramente piace alla grande platea. Abbiamo abusato poco di tecnicismi e non si è fatto quindi una fiera della vanità, bensì con messaggi semplici, diretti, si è parlato al cuore del problema e delle persone e quindi delle famiglie. Sì, 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 sì. Il professore Osario Bianco, editore questa sera e non solo, editore veramente molto affermato, cioè come fa con la sua casa editrice ad avere sempre così tanti professionisti che scrivono? C'è il segreto? No, il segreto è la disponibilità e avere un team di amici, prima di tutto, che aiutano a curare la linea editoriale. Poi la scelta che viene fatta a monte dal vero editore, che è il presidente Iervolino, conforta un po' tutte le scelte e quindi ci dà anche la possibilità di presentare al panorama scientifico dei buoni prodotti. Esatto, buoni prodotti come quello che abbiamo presentato per l'appunto questa sera con l'avvocato Ciccone, una nuova straordinaria idea, un lavoro di grande ricerca che abbiamo finalmente messo a punto. Sì, come ho avuto modo di dire durante il mio intervento, è effettivamente e obiettivamente un lavoro di grande pregio, perché gode di una sinergia tra tre personalità in settori differenti che agiscono comunque nello stesso ambito, quindi un attore protagonista del sistema della governance del lavoro, un professionista di procedure concorsuali, un grande appassionato studioso e cultore della materia che è Marena, e quindi Ciccone, il professore Ciccone, che ha curato bene tutta la parte di procedure concorsuali. Sul tema lavoro abbiamo un maestro che è Franco Cavallaro e devo dire poi il preziosissimo contributo, il lavoro di ricerca effettuato da Marena, fanno sì che questo sia un prodotto utile a più fasce di utenti. Sicuramente sarà un grande successo. Lo possiamo già dire perché abbiamo già superato le 1500 copie vendute a una settimana dall'uscita. Segretario nazionale Francesco Cavallaro, nonché coautore di questo libro, siete ben in tre in questo libro. La impegnativa è stata perché ci sono state una serie di normative, una serie di leggi, una serie di sentenze che abbiamo dovuto mettere insieme. Non è facile nei meandri della legge italiana muoversi, ma quello che abbiamo voluto fare è abbiamo voluto dire con chiarezza quello che potrebbe succedere al lavoratore nel momento in cui avvengono questi tipi di concordati o di fallimenti, perché la tutela del lavoro per noi sindacalisti è tutto. Su questo siamo andati avanti impegnandoci nel renderlo più facile possibile. Un lavoro sicuramente di grande sinergia. Sì, di grande intesa tra gli altri due autori, quindi li ringrazio pubblicamente per l'impegno che hanno messo insieme a me e per la disponibilità nel fare questo. Procuratore Greco, qual è piacere incontrarla, soprattutto in questa splendida occasione. Insomma, parliamo del nuovo scritto del nostro carissimo amico e naturalmente il professore avvocato Lello Ciccone. Un luogo non consono né per me né forse per il libro, però ha riunito, io credo, svariate centinaia di persone, ma diciamo per il tratto e per il garbo di Lello e forse anche un poco per l'interesse del libro. Una bella cosa che credo sia propositiva perché tira in un modo molto semplice le fila di problematiche enormi per le nostre terre e non soltanto per le nostre terre, ma forse soprattutto per i nostri territori. Cioè il discorso dei svariati, enormi, infiniti fallimenti, chiusure di aziende e la perdita dei posti di lavoro. Questo è il nodo centrale che ha cercato di affrontare Lello con i suoi ottimi coautori per quest'opera molto divulgativa. Io credo che sarà importante e fortunato se si riuscirà a raccogliere ancora un po' di gente perché il comune sentire della gente finisce per essere importante e per capire che i posti di lavoro bisogna cercare di non perderli e bisogna cercare di aiutare dal basso con la comprensione soprattutto dei tecnici ma col supporto della comune opinione di questa primaria necessità della nostra terra e della nostra gente. Ecco perché sono venuto a sentire Lello e gli ottimi relatori sul libro di Lello. Lello e gli ottimi Lello e gli ottimi Lello e gli ottimi Lello protagonista in tutti i sensi, l'avvocato Ciccone, nonché un grande amico possiamo dire. Buonasera. Buonasera a te, complimenti a te. No, 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 complimenti a me in questo caso assolutamente no, complimenti a te. Ce li scambiamo, è proprio il caso di dirlo, è proprio il caso di dirlo. Ma chi abbiamo accanto a noi? Io l'ho intervistato poco, anzi, il nostro presidente. Il presidente per eccellenza, ormai in Italia tutti si chiamano presidente, ma lui è il vero presidente. Vuoi dire chi è il presidente? No, il presidente, no, il presidente, noi diciamo il presidente. In ogni famiglia c'è un presidente, ma lui è il presidente di tutti sicuramente. Poi è un caro amico, un fraterno amico, anzi, lo ringrazio di essere venuto alla presentazione di questo libro che veramente so i suoi impegni, quindi lo ringrazierò per sempre. Assolutamente, e non potevamo mancare in questa circostanza ed occasione. Parliamo apertamente. Adesso ne approfittiamo, visto che abbiamo il nostro caro amico Lello Ciccone di fronte a noi, e diciamo oggettivamente qual è la nostra opinione sul libro. Guardate, la carica umana di Lello sicuramente incide così tanto sulle persone che oggi alla presentazione di un libro di giovedì, un libro ipertecnico sul lavoro, sono a corse circa mille persone. Mille persone. Il tema è stato sicuramente quello del lavoro-lavoro giovanile, che sta raggiungendo la soglia del 40% in termini di disoccupazione. Lui ha voluto creare un consesso in cui, parlando i linguaggi semplici, diretti, quelli propri dei giovani, ha voluto dire loro tre cose principalmente. Innanzitutto quello di avere una solida formazione per affrontare il mondo del lavoro. Secondo, quello di avere un pizzo di coraggio per rincorrere i propri sogni con l'autoimpiego, ovvero con le start-up. E il terzo, quello di non essere omologati, ma di cercare in ognuno la propria creatività e un sulto anche di orgoglio per poter dare speranza e rappresentare quel volano di crescita che il nostro territorio merita rispetto ai talenti che ci sono. Ecco perché il Presidente. Mi ha fatto tutto, ha detto tutto lui. Avvocato Ciccone, volevo sapere come, perdonate, vi invito del tuo perché siamo amici, come fai a radunare sempre così tante persone, veramente tantissime qualunque sia la circostanza, che si tratti di un incontro politico, che si tratti di una convention, della presentazione del libro come oggi, però veramente sempre tantissimi accorrono. Perché probabilmente è un rapporto umano, perché oggi in questa vita che si corre, si dimenticano anche, si prende tutto con molta superficialità. Io ho anche un piccolo problema, anche se non si risolve, però lo ascolti. Questo mi piace, io non lo faccio per un interesse, ma lo faccio perché mi piace. Per cui qualunque cosa faccio, accorrono, mi vogliono bene, ho firmato cento autografi di un libro. Anche io la dedica. Infatti, ho mai visto uno che si presenta in un libro e firma cento autografi, ma lei è un personaggio, non lo conoscevo perché era di Napoli. Ho detto no, però purtroppo conoscevo, cioè conosco tutto. Infatti ho chiesto solo a due o tre persone come si chiamavano i nomi, perché ormai li conoscevo tutti, anche i nomi. Tra l'altro poi, voglio dire, parlando di lavoro, che è per l'appunto un argomento tanto attuale e tanto discusso. Sì, di lavoro soprattutto nelle imprese in crisi, perché questo è il lavoro che si perde, il più brutto in assoluto, perché dopo che si lavora per 20-30 anni, a un certo punto viene licenziato perché la tua impresa chiude. E il rischio è che non trovi più lavoro, sei finito, sei in mezzo alla strada, alla famiglia. Questa è la cosa, secondo me, più brutta, anche più brutta del giovane che non riesce a trovare il lavoro, perché perdere il lavoro a 40-50 anni, perché la tua impresa, il tuo imprenditore non è stato bravo, questo è veramente deleterio. Poi, io mi sono approcciato a questo lavoro, io non faccio, faccio l'avvocato civilista, non faccio il lavoro, sono approcciato a questo tema e ho visto che veramente è un ginebraio di leggi, di veramente deve essere tecnico, deve entrare su ogni... perché c'è sempre... oggi stiamo parlando e già c'è stata una riforma sul diritto fallimentare. Non è possibile, non si fa così, perché si rischia sulla pelle della gente, quindi la gente va tutelata e quindi era questo il mio approccio, però purtroppo mi sono trovato in una condizione di leggi esagerata. E questo può essere sicuramente uno spunto, tanto per l'imprenditore quanto per il lavoro, il lavoratore e qualcuno ha detto anche per la magistratura in qualche modo. Sì, sì, è certo, questi sono i temi e i personaggi che sono implicati in questa vicenda, è ovvio, e quindi bisogna fare di più, però non legiferare così come si è legiferato fino adesso, perché dal XIX secolo fino ad oggi è stata veramente una marea di leggi, è un ginebraio incredibile, veramente deve trovarsi, credo che ha difficoltà, anche un magistrato del lavoro, ripeto, io non faccio lavoro, però veramente è un fallimento, bisogna tutelare il lavoratore e l'azienda, però così com'è credo che non sta al primo posto il lavoro. È avvocato e naturalmente scrittore, adesso abbiamo scritto di questo, ma la nostra penna è sempre all'opera, questo è pur vero, non ci si ferma. Sì, sto preparando un altro lavoro sull'associazione consumatori, perché sono anche presidente provinciale dell'Udicon, è un'associazione consumatori, sto facendo un lavoro però più, meno, diciamo, pesante, tra virgolette, perché è sempre per venire incontro alle persone bisognose, le persone che hanno bisogno, che non riescono nemmeno a leggere una bolletta telefonica, perché sono in condizioni che non fanno capire la bolletta telefonica, quindi sto preparando qualcosa sia di tecnico che di giuridico. Insomma, qualcosa che si possa avvicinare veramente ad un pubblico molto vasto, anche per quanto riguarda il nostro ultimo scritto. Sì, sicuramente un pubblico molto vasto rispetto a questo che è molto più tecnico, ma soprattutto un mondo che ha bisogno di essere guidato, di essere consigliato e soprattutto di essere spiegato che cos'è. Grazie, grazie, mille complimenti e tanti auguri. Grazie a te, buona serata. Grazie a te.